oggi 27 settembre 2016 comunque questo è tiger woods pj tour 06 per per playstation 2 è un gioco di golf questa è una demo sono 18 buche comunque questo gioco comprende 18 buche comunque io vi saluto ragazzi commentate iscrivetevi lasciate un bel palizzo in su ci si becca presto ragazzi ciao alla prossima